Music, news, sport, every day for you on the web, lecochannel.it, the blue light, blue radio. Marco finalmente ti abbiamo visto in campo dal primo minuto, penso una bella sensazione anche per te questa che è passato due anni non facili, come ti sei sentito almeno fino al momento in cui il corpo ha detto basta e hai dovuto chiedere il cambio per i crani, il cambio, pardon, per i crampi. Sì, sì, no, mi sono sentito abbastanza bene, era da tanto che non scendevo in campo al primo minuto, le sensazioni sono state sicuramente positive, a parte la vittoria che è mancata. Una vittoria che continua a mancare, questa volta ci siete arrivati veramente vicino, però era lecito comunque aspettarsi qualcosa di meglio, penso che ve lo aspettavate anche voi. Sì, sì, sicuramente bisognava vincere, però adesso è inutile piangerci addosso e dobbiamo pensare partita in partita e far bene la prossima. Mediano a due, mediano a tre, come ti trovi meglio, come ti sei trovato meglio fin qui? A due o tre per me è uguale, l'importante è dare una mano alla squadra per gli obiettivi che abbiamo. Sabato sarete atteso ancora una volta al barco, giocherete in casa questa volta, però forse l'ambiente non sarà facile per voi. Sì, sicuramente i tifosi giustamente ci hanno contestato e dobbiamo far sì di cambiare la rotta, che non ci contestino più ma ci applausano. E allora buon lavoro Marco in bocca al lupo. Grazie mille. Musica News Sport Every day for you on the web. Leco Channel.it The Blue Light Blue Radio